Buonasera, siamo alla seconda delle nostre conferenze di quest'anno che sono dedicate a un tema che Papa Francesco richiese all'Assemblea dell'Episcopato italiano come luogo di attenzione chiamati a vivere l'umanesimo cristiano. Il primo incontro lo abbiamo avuto con Monsignor Nunzio Galantino che ci ha parlato di un Dio per l'uomo, come dire, questione quanto mai attuale dato ciò che abbiamo visto nella scorsa settimana, le varie interpretazioni della relazione tra Dio e i fenomeni naturali e quindi quella titolatura che Monsignor Galantino diede al tema, un Dio per l'uomo, quindi dava un particolare taglio anche alla comprensione, alla visione, alla proposizione e alla predicazione sul Dio. Il tema di questa sera che affidiamo già dall'ambasciatore Daniele Mancini, che è l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, ha come tema ideale realtà nel destino dell'Unione Europea. L'umanesimo cristiano ha come risvolti non solo una riflessione sull'uomo ma anche una riflessione su quelli che sono gli ambiti nei quali l'umano si esprime. Ma prima di dare la parola all'ambasciatore desiderai presentarlo. Entrato in carriera diplomatica nel 1978, Daniele Mancini è dal 4 marzo 2015 ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. È stato in precedenza ambasciatore d'Italia in India con accreditamento in Nepal dal 2013 al 2015 e in Romania con accreditamento in Moldova dal 2005 al 2008. Nei suoi precedenti incarichi all'estero ha prestato servizio in sedi bilaterali Washington, Parigi, Baghdad, occupandosi di dossier politici, di questioni commerciali e consolari e multilaterali, rappresentanza italiana presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles. Nel corso della sua permanenza a Roma ha svolto altresì le funzioni di consigliere diplomatico del Ministero dello Sviluppo Economico, Commercio Internazionale, Energia e Comunicazioni e ricoperto importanti incarichi al Gabinetto del Ministro degli Esteri, alla Presidenza della Repubblica e alla Segreteria Generale del Ministero degli Esteri. Laureato summa cum laude in Scienze Politiche all'Università La Sapienza nel 1975 ha frequentato il corso della Carnegie Endowment for International Peace Smithsonian Program sul cambiamento dell'ordine mondiale. Ha studiato filosofia morale e teoria e tecniche di comunicazione alla Georgetown University di Washington. Al suo attivo ha numerose pubblicazioni di analisi politologica e delle relazioni internazionali grazie alla sua approfondita conoscenza delle dinamiche di politica estera e di politica interna maturata nel suo servizio al Ministero degli Esteri e nelle diverse sedi di accreditamento. Tra queste, peregrinazione di una coscienza inquieta per il ritorno della guerra in Europa, insegnato al Campidoglio di Roma del premio Simpatia 2000, le prospettive del sistema dei partiti politici negli Stati Uniti, l'Occidente del processo di riforma nell'Europa orientale, le relazioni italo-francesi tra ristrutturazioni industriali e mercato unico europeo, lo sviluppo economico dell'Iraq nella dimensione del Golfo, lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Iraq alla luce del conflitto del Golfo. Tra i suoi interessi privati ci sono anche la scrittura e la poesia. Autore di diverse antologie poetiche, L'uomo che sognava le nuvole, Il labirinto di Icaro e Oltre il labirinto. Dal 2005 è iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti italiani. Nel corso della sua quasi quarantennale carriera è stato insignito di prestigiose onorificenze, tra le quali quella di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2016. Dal 2000 è accademico ordinario dell'Accademia Angelica Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze. Ecco, in questa cornice si inserisce anche l'intervento dell'ambasciatore questa sera che noi ringraziamo per la sua presenza. L'abbiamo sottratta certamente a impegni ai quali è dedicato, ma credo che una voce amica anche e competente all'interno delle nostre conferenze ci offra veramente elementi ulteriori per la riflessione di cosa significa in fondo il vivere l'umanesimo cristiano. Prego, eccellenza. Grazie mille. Buonasera, spero che mi sentiate e comprendiate bene le mie parole. desidero innanzitutto ringraziare con molta personale cordialità Padre Barlone, Direttore del Centro, Ultado, per questa opportunità che mi offre. Non è lei a ringraziare me, ma sono io a ringraziare lei e ringraziare tramite suo il Reverendo da Silva Gonsalves, il magnifico rettore della Pontificia Università Gregoriana. Chi ha ascoltato alcune delle cose che ha detto il padre per quanto riguarda il mio curriculum, ha visto che io ho passato un paio d'anni della mia vita studiando in un'altra Università Gesuita, l'Università Georgetown, Gesuiti americani ma sempre Gesuiti, nel bene e nel bene, come solgono dire. È difficile parlare su questo tema, ideale in realtà nel destino dell'Unione Europea, cercherò di farlo, lo farò innanzitutto, permettetemi un piccolo disclaimer a titolo personale e non nelle mie capacità d'ufficio. Lo faccio da appassionato europeo, da europeo che oggi vive come le vivete voi, le inquietudini per questa nostra Europa che diventa sempre più difficile da leggere e da interpretare. Oggi è l'8 novembre, chi ricorda i meno giovani tra coloro che sono presenti, il 9 novembre 1989 successe qualcosa di molto importante, che in queste ore all'epoca si stava preparando. Crollò il muro di Berlino, venne meno un sistema che era politicamente molto comodo, che era quello della guerra fredda, che divideva il mondo in buoni e cattivi e quindi venne meno un ordine che però era eticamente ripugnante, deplorevole. Ecco, maestro Rostropovic suonò il suo violoncello tra le rovine del muro di Berlino, sembrava che il mondo cambiasse, è cambiato, resta da vedere appunto in che grado di misura sia cambiato per il meglio e secondo le nostre aspettative. Ne parleremo nel corso di questa nostra chiacchierata. Non parliamo solo del passato ma anche dell'imminente futuro. Tra tre mesi, il 25 marzo, si terrà nella Sala degli Orazzi dei Curiazzi del Campidoglio di Roma la cerimonia, l'anniversario dei 60 anni della Unione Europea. Allora non si chiamava Unione Europea ma l'idea comunque era quella. Il Trattato di Roma, suonarono le campane nelle chiese di Roma, ci fu un giorno di festa, gli scolari non andarono a scuola. Nasceva una nuova entità. Nel cuore degli europei si riavvivava una fiamma che il secondo conflitto mondiale, devastante, che poneva fine ai 30 anni della seconda guerra dei 30 anni che aveva insanguinato l'Europa, la prima del XVII secolo, la seconda appunto nel XX, si chiudeva quella pagina tragica della storia dell'Europa e con il grido mai più la guerra. Oggi viviamo in un mondo di euroscettici, in un mondo in cui molti si dicono se l'Unione Europea abbia ancora una funzione, bene, se sia il momento di mandarla in pensione. Io credo che così non sia. Mi sforzerò, parlandone con voi, magari mi farebbe molto piacere se alla fine di questa chiacchierata ci fosse la possibilità di un confronto. Allora, ideale, realtà e destino. Facciamo così, ideale, il passato, realtà, oggi, la fase presente, dove è oggi l'Unione Europea, il destino, il futuro. Questo è un po' il filo d'Arianna che vi propongo, ci accompagni durante questa nostra chiacchierata. La mia tesi, la metto subito sul tavolo, ve la porgo subito, la mia tesi è che non vi sia troppa Unione Europea, ma ve ne sia tutto sommato ancora relativamente poca. O, per meglio dire, non ci sia l'Unione Europea giusta. Si dice troppa l'Unione Europea, ma io vi faccio notare che tutto ciò che è contenuto in questa sala è rigidamente previsto e normato dall'Unione Europea. Quel cartello, via di fuga, sta lì perché lo prevede l'Unione Europea. Questa presa di corrente per questa apparecchiatura è predisposta in questo modo perché è prevista in questo modo dall'Unione Europea. Il problema quindi non è che non è concreta l'Unione Europea, è fin troppo concreta. Forse è concreta al punto di essere divenuta un grande organismo burocratico. La mia tesi è la seguente. Non vi è un deficit di Europa, vi è un deficit di ideale, valoriale. Si è perduta, si va smarrendo. È come un fiume che si disperde nelle sabbie del deserto. La sua molla etica, la sua dimensione del sogno, quella che fece appassionare il cuore dei giovani, delle giovani generazioni del dopoguerra e che spinse, io sono stato ambasciatore in Romania, come il padre ha ricordato, e che spinse milioni e milioni di persone, soprattutto di giovani, a manifestare la propria passione verso l'Europa che tornava a respirare con i suoi due polmoni insieme, come diceva Giovanni Paolo II, l'Europa che torna, o Milan Kundera quando diceva che torna in Occidente l'Europa che era stata rapita, l'Europa orientale. Ecco, quella spinta si sta esaurendo, manca quel fuoco interiore che l'aveva a lungo animata. L'idea di Europa. Definire l'Europa è difficile, è oggettivamente difficile. Noi tre europei la diamo per scontata, l'Europa, in tutti i sensi. Europa storica, Europa geografica, ma l'Europa di per sé non è che un promontorio di quell'enorme massa di terra che è l'Eurasia. Erodoto nella sua storia diceva che esistono i greci e gli europei, cioè gli occidentali, ed esistono i persiani e il resto del mondo. Il resto non contava. L'Europa sfugge in realtà a qualsiasi facile definizione. L'Europa non si lascia mettere in un cassetto e tirare fuori alla bisogna per essere catalogata. L'Europa è vittima e carnefice. L'Europa è stata mostro ed è stata eroe. L'Europa è stata pogrom ed è stata originatrice della dichiarazione dei diritti dell'uomo e della persona. È stata civiltà e barbarie. È oggi campione antesignano del rispetto dei diritti umani ed è stata, lo ricordate, sui campi di sterminio di Auschwitz, con la scritta, quelle scritte mortifere, l'idea che effettivamente i diversi, gli altri, dovessero essere eliminati. Non è religiosa o laica, non è conservatrice o progressista. L'Europa è qualche cosa che è un termine relativamente recente. La Pax Romana, voglio dire, noi qui credo che con qualche diritto ci consideriamo un po' gli eredi di quella grande entità di civiltà che è stato l'impero romano, sicuramente un grande blocco geopolitico, che aveva al proprio centro il Mare Nostrum e non utilizzava assolutamente le categorie che abbiamo noi. Gli Antonini avevano la pelle scura, gli imperatori venivano dall'Africa, venivano dall'Almazia, venivano dalla Spagna. Erano cittadini romani. Erano cittadini romani. Quindi l'idea dell'Europa era aliena a quel mondo. L'Europa comincia a definirsi tale, comincia a definirsi tale con l'impero carolingio, con il sigillo della cristianità. Ecco, adesso non perché siamo in un'università come questa, ma, e ci torneremo sopra, l'importanza appunto della cristianità. C'era un limes. Limes all'epoca divideva, spingeva, diciamo, popolazioni che venivano considerate barbare, le manteneva al di là del Danubio, le manteneva al di là del Reno. Secondo la tesi di uno storico illustre, Piren, il Medioevo in realtà non comincia con la caduta dell'impero romano, ma comincia con l'affermazione dell'Islam, che divide in due il Mediterraneo, il nord e il sud, e propone un nuovo tipo di limes. Comunque sia, si creano questi mondi molteplici. C'è una cristianità latina occidentale, c'è una cristianità latina orientale, un'Europa latina e un'Europa germanica. C'è un'Europa ulteriore, che si afferma poi con la riforma e la conseguente contro-riforma. Quindi vediamo che questa Europa, cammin facendo, si carica di propri significati storici e territoriali, ma che rimangono diversi. L'Europa è plurale. Ecco, è importante questo riferimento, su cui tornerò anche più tardi. L'Europa è plurale, non esiste una Europa, esistono delle Europe che poi insieme danno vita a una federazione di intenzioni. L'Europa è un'idea più che un territorio. Ma non vi è un centro fisso in questa Europa, anche questo credo che sia importante. Oggi si dice il cancelliere Merkel, si dice Berlino, abbiamo assistito alla dolorosa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, eccetera. Ma l'Europa ha avuto come proprio centro, pensiamo alla lezione di Brodel, un uomo che è uno storico che è anche caro, in un'università come questa. Amalfi, Anversa, Venezia, Londra, ecco, quante capitali ha avuto questa Europa storica. L'unica cosa sicura in questa Europa che non è un territorio ma è un'idea, come dicevamo poc'anzi, e che ci sia stata questa forte, forte spinta di aggregazione culturale che era quella propulsa anche dalle università. Invenzione europea, bellissima, straordinaria, luoghi di aggregazione e di definizione e di trasmissione del sapere. All'epoca si viaggiava tra Salamanca, Bologna e Parigi, la Sorbona a Parigi, si andava a Oxford, eccetera, senza passaporto, senza mostrare altro documento. L'Europa della cultura che parlava latino e che poi avrebbe parlato le lingue volgari, si riconosceva una. Io credo anche questo sia un riferimento importante che noi dobbiamo mantenere presenti come cittadini europei. Amleto, il dottor Fausto, i fratelli Karamazov, la Divina Commedia non hanno cittadinanza. Si possono tradurre, non benissimo, ma Shakespeare può essere tradotto in italiano e la Divina Commedia può essere tradotta in fiammingo. Le sentiamo nostre queste opere perché fanno parte di qualche cosa che sentiamo come effettivamente come nostro. Poi altro tema a cui tengo appunto è quello della complementarietà e della conflittualità dell'eredità, quando parlavo di Europa plurale. Complementarietà e conflittualità. Esiste l'eredità greca, romana, esiste l'eredità ebraica, l'eredità evidentemente cristiana della quale siamo stati allevati, filosofia, scienze, ideali e ideologie politiche si combattono, si fondono, in qualche modo spingono questo comune retroterra europeo e lo definiscono. Perché dico questo? Mi ci sono soffermato un momento. Lo dico per dire che l'unificazione dell'Europa quando si decise di andare avanti, Messina 1955, Roma 1957, fino a oggi, fu un atto di volontà, un atto di volontà che si costruì sulle ceneri dell'Europa Potenza che era esplosa, si era spappolata nel 1945 e che negli anni successivi con la decolonizzazione sarebbe venuta totalmente a mancare. Ecco, quindi l'Unione Europea, se la definiamo già così, anche se all'epoca non si chiamava con questo nome, nasce come un atto di volontà politica e una causa di forza maggiore. Non ci dimentichiamo, e da diplomatica non posso dimenticarlo, questo, non nasce come causa di forza maggiore per la guerra fredda. La guerra fredda. Ci abbiamo gli americani, il piano Marshall, ricordiamo i quattro cavalieri dell'Apocalisse, la fame, la guerra, la distruzione, la morte, che veniva associata all'epoca al comunismo stalinista, c'era la guerra fredda, buoni e cattivi da una parte e dagli altri, naturalmente ciascuna delle due parti pensava di essere nel giusto. L'Europa si trova su quel Limes, un nuovo Limes, che poi sarebbe diventato il muro di Berlino, e questo dà una forte spinta all'Europa, perché quelli che erano stati grandi, orgogliosi e sconfitti, paesi europei, perché tutta l'Europa uscì sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, si mettessero insieme dietro un grido che all'epoca fu quello del mai più la guerra. Ecco, queste sono le radici, se vogliamo dire, le radici dell'Europa. Di sognatori ce n'erano stati tanti, da Vittorio Ugoa, da altri, no? Per tutto l'Ottocento avevano parlato, avevano vagheggiato di questa unità europea, di questi popoli europei che si sarebbero tra di loro uniti. Sta di fatto che ci furono dei nomi e dei cognomi, Altiero Spinelli, se ne è parlato recentemente, 1941, fa lì dove era confinato, la Ventotene, ma fa questo manifesto per l'Europa. La sua tesi è molto semplice, dice, fin tanto che ci saranno gli stati nazionali che sono stati e che impersonifica un'idea dell'Europa potenza, ci sarà arbitrio. Lo Stato nazionale conduce alla guerra, solo una federazione di stati può assicurare all'Europa pace e stabilità. Si forma il Consiglio d'Europa 1949 del piano Marshall abbiamo parlato, alcuni statisti, uomini di straordinaria apertura intellettuale, cristiani e democristiani erano. Parlavano il tedesco ed erano nati in marche di frontiera, in regioni di frontiera dei rispettivi paesi. si congregano tra di loro, pensano a quello che i popoli europei si erano lasciati alle spalle. Abbiamo fatto, i miei collaboratori, l'ambasciata, mi hanno dato una mano a contare quanti anni di guerra vi sono stati tra il 1500 e oggi in Europa. Su 300 e scusate, su 516 anni abbiamo avuto più di 300 anni di guerra in Europa. 300 anni di guerra. Non è un dato da prendere alla leggera, vuol dire che quasi ogni generazione di francesi, tedeschi, inglesi, russi in Europa è stata in guerra con i propri fratelli. In ogni famiglia delle nostre, tranne che nelle ultime due generazioni, c'è sempre stato il ricordo di morti, di lutti, c'è sempre stato il ricordo di un padre, di un zio, di un nonno che è stato in guerra. Ecco, dissero mai più la guerra. E questo ecco ce lo dobbiamo ricordare e dobbiamo ricordarlo soprattutto ai nostri figli, dobbiamo ricordarlo soprattutto ai giovani, su questo torneremo, che magari beati loro e per fortuna perché il futuro è il loro, il futuro sarà quello che loro vorranno farne di questa Europa, tendono magari a dare un po' tutto ciò per scontato, mai più la guerra. Ecco, quella è una cosa importante. Presto sorgono, come posso dire, sorgono le prime linee di differenziazione all'interno diciamo di questo bellissimo effervescente magma anche culturale che circolava nell'Europa euforica, prostrata ma euforica di quegli anni. Ci sono gli idealisti come Spinelli, federalisti, l'Europa federazione. Ci sono quelli molto più prudenti, europeisti, sì, ma fino a un certo punto, ci sono i confederalisti, sfogliamo. E poi ci sono i funzionalisti, i tecnici, Monet, un grande, Monet, sono quelli che poi vinceranno la battaglia, che dicono, piano, non andiamo, non facciamo il passo più lungo della gamba, vediamo che cosa possiamo fare insieme. sua di Monet, la frase gli uomini accettano il cambiamento solo per necessità e vedono la necessità solo nella crisi. Bello, no? Necessità, crisi. Convinse Schumann, che all'epoca era ministro degli esteri, un altro di quei padri fondatori che è nato in una regione frontiera che parlava al tedesco, il famoso discorso dell'orologio al Kedolse nel 1950, insomma, quindi l'idea che l'Europa non potrà farsi in una sola volta e si farà attorno a realizzazioni funzionali. Ecco, quindi realizzazioni funzionali introduce un'aggettivazione che sarà molto importante nella crescita e nello sviluppo della costruzione europea, la costruzione tecnica, cioè partiamo da ciò che ci unisce, per partire da ciò che ci unisce partiamo da considerazioni soprattutto economiche, facciamo in modo che la politica ci sia sì ma venga assunta se posso così dire a piccole dosi. Un tema che mi interessa valorizzare con loro questa sera qui è quella che fu una premiere nell'Europa di quegli anni lì l'idea che venissero valorizzate le diversità in un continente che era stato omogeneo gli stati nazionali i blocchi ma anche i religiosi non ce lo possiamo dimenticare questo e il rispetto delle complessità dei mosaici etnici la tutela delle minoranze quello che sarà poi l'atto finale di Helsinki nel 1975 ci torneremo fra un momento quando discuteremo sul fatto che alcune di queste realizzazioni che davamo per scontate oggi in alcuni paesi membri dell'Unione Europea non lo sono più tanto. Ecco quale fu parlandone tra di noi il momento in cui l'Europa avrebbe potuto compiere un salto in avanti irreversibile e non compì quel salto irreversibile? Credo che si possa adattare con sufficiente precisione fu il 1954 quando il Parlamento il scusate il popolo francese respinse il trattato della Comunità Europea di Difesa c'erano truppe francesi che combattevano in Indocina c'era il timore verso il possibile revancismo tedesco mille ragioni sta di fatto che l'idea di non solo mettere insieme il carbone e l'acciaio ma di mettere insieme anche gli strumenti della difesa venne respinto venne respinto da uno dei grandi popoli che avevano fatto l'Europa della cieca come si chiamava all'epoca non si parlò più a partire da quel momento dell'Europa della difesa e quindi se oggi l'Europa non è un partner globale per quanto riguarda la politica estera e la politica di difesa lo si deve a quella decisione di quel momento nella vita contano le parole contano le decisioni altro momento topico lo vedremo fra un momento sarà quello del respingimento della Costituzione europea spesso si ha voglia di dire ma non siamo riusciti a farlo adesso lo faremo no qualche volta l'autobus passa una seconda volta spesso purtroppo non ripassa quell'autobus non è ripassato e non ripasserà ecco questo lo dico a titolo evidentemente personale ma credo che ci sia oggi poco da poter sperare nel dire benissimo ci sarà una proiezione di forza internazionale di che posso dire di un esercito europeo insomma si creano i presupposti per un'Europa che è un'Europa funzionale che marcia bene che cresce in un continente che vive questa fase di euforia e di sviluppo economico il boom economico i baby boomers però la politica del minimo comune denominatore è in agguato è in agguato e farà strada parte il cantiere europeo tutto questo lo saltiamo tutta questa fase ricordiamo la frase famosa dell'ex presidente della commissione europea romano prodi quando disse ma che cos'è l'Europa l'Europa come un ciclista per andare avanti deve continuare ha bisogno di pedalare sono anche gli anni in cui questa Europa che è diventata molto economicamente molto robusta ma appunto come dicevamo in poc'anzi politicamente ancora fragile la famosa frase che tutti abbiamo incontrato da qualche parte sui nostri rispettivi percorsi del nanopolitico e del gigante economico la frase irritante di Henry Kissinger che durante la guerra dello Yom Kippur del 1973 disse va bene in una delle tante riunioni con i suoi colleghi europei eccetera capito capito tutto quello che mi dite eccetera ma se io devo chiamare l'Europa che numero di telefono compongo ecco non è che oggi a distanza di più di 40 anni sia enormemente cambiata la situazione veniamo al presente vi abbiamo già fatto un breve riferimento la caduta del muro di Berlino la caduta del muro di Berlino dà un impulso incredibile alla alla politica mondiale come spesso quando si vivono determinate situazioni non ci si accorge che qualche cosa di importante sta accadendo ma non si è fin da subito in grado di immaginare le prospettive di quanto accadrà c'è la gioia della riunificazione culturale di queste due metà dell'Europa che erano state tenute artificialmente lontane tra di loro per più di una generazione ma le istanze comunitarie si lasciano sorprendere si lasciano sorprendere addirittura alcuni importanti leader europei tentano in qualche modo di rallentare quel meccanismo che invece era dotato di una forza esplosiva si disse allora che i popoli dell'Europa orientale votavano con i piedi nel senso che fisicamente lasciavano i paesi di cui erano cittadini per spostarsi nel paese vicino perché magari era più era meno diciamo meno rigida nell'applicazione delle rispettive normative comuniste ecco che quei paesi là che avevano bisogno evidentemente di un di riapprendere l'abc della democrazia dopo queste lunghe stagioni dopo questi lunghi anni di comunismo vengono lasciati fuori della porta per 15 anni quindi si raffredda diciamo un un certo un certo entusiasmo soprattutto quando dicevo poc'anzi che non ci si rese conto immediatamente di quanto stava accadendo è che la fine della guerra fredda la fine della guerra fredda comportò un ridimensionamento strategico netto del ruolo dell'Unione Europea l'Unione Europea era stato il Limes come avevamo detto il bastione di contenimento del comunismo era stato il motivo per il quale gli Stati Uniti mantenevano delle grandi forze militari in Europa era stato il motivo per il quale appunto tutti gli scenari della geostrategici ruotavano attorno ho fatto prima rapidamente cenno all'atto finale di Helsinki attorno alla stabilità del continente europeo adesso diventa un po' un tana libera a tutti nel senso che come disse un nostro come scritto un grande ambasciatore italiano adesso felice felice columnist sulla stampa Sergio Romano disse ogni paese da adesso in poi varrà per quello che vale la propria moneta e quello che vale la propria politica estera cioè non ci sono più rendite di posizioni garantite per paesi o blocchi quindi l'Unione Europea nel momento del massimo come dire della massima apertura della massima espansione del massimo successo in realtà boom c'è un elemento che comincia a spostare diciamo a divergere da essa l'attenzione di partners importanti la Cina a parte gli Stati Uniti quelli che diventeranno poi Brics il sud del mondo che comincia a diventare a svolgere un proprio ruolo significativo l'Europa con la macchinosità che è dovuta all'epoca al proprio modo di essere erano 15 i partners reagisce lanciando tre grandi cantieri lancia il cantiere dell'allargamento dell'euro e della Costituzione europea non non mi dilungherò su su ciascuno di questi eccetera l'euro porta concretamente nelle tasche di ogni cittadino italiano europeo un po' di Europa no quando tu vai in un altro paese e non devi più cambiare i quattrini eccetera vedi che hai una moneta uguale effettivamente ti rendi conto che c'è un po' d'Europa sull'allargamento dell'allargamento un po' detto prima vediamo e in qualche modo giustifichiamo questa resistenza dei paesi dell'Europa orientale che a lungo soggetti a Mosca sono stati e continuano ad essere molto prudenti utilizzo una frase diplomatica nel concedere quote di propria sovranità a Bruxelles quanto basta per assicurarsi diciamo il meccanismo dei fondi europei di sviluppo però insomma a casa mia decido io come si fa questo è anche il retaggio evidentemente di decenni e decenni di regimi socialisti la costituzione europea il secondo grande fallimento dell'Europa il secondo grande fallimento dell'Europa non sarebbe stato male avere una costituzione europea immagino che voi siete d'accordo con me forse io sono stato negli Stati Uniti negli Stati Uniti se non ricordo male se non è cambiata fra qualche ora vedremo e se non è cambiata la costituzione ci hanno sette articoli e 24 emendamenti di costituzione è un documento alto così la costituzione europea per come era stata mascrita metteva insieme cioè era una sorta di enciclopedia treccani sta di fatto che sarebbe stato un punto di riferimento lo vediamo adesso nella campagna referendaria da noi in Italia il sì o il no ci si riconosce o meno in un documento appunto vecchio di 70 anni e si fa molta attenzione se cambiarlo e come cambiarlo se emendarlo e come emendarlo eccetera ecco la costituzione europea di nuovo i francesi questa volta in compagnia degli olandesi dicono no non vogliamo questa costituzione di nuovo c'è un un salto all'indietro dell'Europa che si rende conto effettivamente che manca un disegno condiviso anche nelle opinioni pubbliche un deficit di democrazia un deficit di democrazia sul quale torneremo fra tre minuti i nazionalismi cominciano a risorgere c'è un euroscetticismo di fondo che si manifesta c'è il dramma dello sgretolamento della Jugoslavia di quella che era stata la Repubblica Socialista di Jugoslavia le cancellerie europee che in ordine sparsono decidono di riconoscere sì o no poi sì tutti ma a tempi diversi in momenti diversi le nuove repubbliche che si formano l'impotenza dell'Unione Europea nell'inviare delle come dire dei contingenti militari di separazione e le operazioni la stessa cosa accade per le Nazioni Unite interviene la Nato insomma fu un momento molto difficile della vita dell'Europa da lì nascono molti degli euroscetticismi che poi sono cresciuti non è vero che l'euroscetticismo è una manifestazione di oggi gli euroscetticismi nascono da almeno vent'anni ecco il destino dell'Europa è il futuro la terza parte di questa di questa nostra dissertazione questa sera lo dico con schiettezza secondo me il dibattito austerity versus responsabilità verso solidarietà eccetera è un dibattito che è importante ma che solo in parte coglie nel segno della crisi che viviamo oggi in Europa la nostra crisi è ritengo essenzialmente una crisi valoriale valoriale perché noi europei siamo insieme all'inizio del ventunesimo secolo è una crisi valoriale sono i valori che definiscono la nostra identità se noi siamo qualche cosa invece di qualche cosa di diverso è perché lo siamo in base a determinati valori che per noi sono importanti che trasmettiamo di generazione in generazione se smettiamo di credere in quei valori diventiamo qualche cosa di diverso credo che questo sia un po' dal mio punto di vista ecco questo è il messaggio che vi trasmetto un po' la situazione di difficoltà che oggi viviamo non è tanto e soltanto il problema della crescita anemica 1 più 2% o 2% che pure è importante oppure vediamo che il pendolo sta tornando indietro verso l'epoca delle sovranità nazionali non è in quel modo che noi fermeremo appunto questo pendolo noi lo fermeremo se torneremo a credere in noi stessi lo fermeremo se torneremo ad avere dei valori che definiscono la nostra identità di riferimento non ci basta dire siamo figli della dichiarazione Schumann quell'Europa lì era un'Europa diversa era un'Europa occidentale fatta da sei stati che avevano una certa omogeneità tra di loro oggi siamo 28 saremo 27 fra poco tempo quindi esiste uno scontro di civiltà se ne parla tanto lo scontro di civiltà ecco lo scontro di civiltà che vedo io non è uno scontro tra occidente e islam quanto uno scontro interno nostro su chi crede che cosa se ancora qualcuno crede in qualche cosa in questo nostro continente che è quello che poi ha nutrito insomma i valori la globalizzazione è fatta essenzialmente di universalismo e pluralismo ma vediamo che effettivamente invece questi grandi valori che appunto erano stati grandi idee grandi teorie trascinatrici dell'Europa che erano state l'idea dell'universalismo la scoperta dell'America i grandi i grandi viaggi la circolabicazione del globo il pluralismo religioso e civile che avevano dilaniato spesso anche questo nostro continente oggi invece c'è un appiattimento verso quello che si chiama il pensiero unico il pensiero debole eccetera Papa Francesco arriva questo Papa dall'Argentina ci mette tutti quanti in rega e ci dice questo non è un questo è un cambiamento d'epoca non è un'epoca di cambiamenti cambiamenti ce ne stanno tanti nella vita questo è un cambiamento d'epoca nel senso che non è che si sfoglia una pagina ma si apre un libro nuovo di rispetto al libro che stavamo vedendo in precedenza penso che non sta a mi dirlo ma insomma penso che abbia trenta volte per ragione i valori non sono i valori con i quali noi ci stiamo misurando oggi per quelli che ce ne sono ancora di questi valori non sono ereditati ma sono inventati noi siamo in una fase della vita delle relazioni internazionali della vita dei paesi delle nazioni in cui i valori non li ereditiamo più ma li stiamo inventando non sono riprodotti ma sono creati non sono riprodotti ma sono creati non sono ricevuti ma sono trasmessi nel senso che molto spesso nostri questo paio di generazioni che sono rappresentate qui questa sera in questo consesso stanno creando dei valori e trasmettono dei valori che non sempre hanno ricevuto vuol dire ci sono dei valori nuovi che si stanno formando che sono in circolazione dobbiamo fare attenzione quali strade prendano l'UNESCO alcuni anni addietro quindi un'organizzazione internazionale a livello globale ha lanciato quattro grandi cantieri un cantiere per un nuovo contratto sociale che è un contratto sociale vuol dire ritrovare le regioni fondanti del welfare state dell'insegnamento ad esempio l'educazione permanente per tutti quindi un nuovo contratto sociale un contratto per la natura la coscienza sociale ecologica integrale e vediamo poi la bellissima enciclica di Papa Francesco sul laudato sì il contratto culturale per assicurare la diversità culturale questo è un mondo in cui ogni anno scompaiono decine di lingue nazionali contratto etico cioè la tutela della sicurezza umana vogliamo vogliamo difenderlo o meno vogliamo difenderla o meno questa umanità dell'uomo ecco il dibattito riguarda anche il dibattito sui valori riguarda anche le radici cristiane è facile immaginare che in un'università come questa si dia per scontato tutto ciò io e mia moglie Anna Rita siamo reduci dall'ultimo tratto del cammino di Santiago di Compostela abbiamo camminato la scorsa settimana abbiamo fatto un centinaio di chilometri a piedi e abbiamo arrivando alla meta ci siamo confrontati con quello straordinario appassionato discorso che fece nel 1983 a Santiago Giovanni Paolo II quando disse Europa ritrova te stessa molto simile a quelle che fine hai fatto Europa umanistica di Papa Francesco al premio Carlo Magno della scorsa primavera ecco quindi questi due grandi papi che lanciano questo appello e nella tappa finale entrando dentro la città di Santiago di Compostela si vede scritto per terra in cinque o sei lingue questa frase bellissima l'Europa si è fatta camminando verso Santiago vero non vero io non lo so sta di fatto che in quel discorso a cui facevo riferimento poc'anzi Giovanni Paolo II disse citò una frase di Goethe e Goethe disse appunto la coscienza dell'Europa è nata pellegrinando perché dico questo ecco dico questo perché uno dei riferimenti della Costituzione che poi non è nata e che comunque era stato cassato nella fase di scrittura della Convenzione medesima della Costituzione scusate medesima europea era quello riferimento alle radici europee è chiaro che l'Europa oggi non è l'Europa di un tempo non è l'Europa dei padri fondatori che erano appunto abbiamo detto cristiani e democristiani oggi l'Europa è plurale ci sono importanti molto significative minoranze di altre religioni l'Europa è anche ortodossa e luterana non è solo cristiano-cattolica ci sono tante Europee sta di fatto che il riferimento alle radici dà forza ideale a chi ricorda quelle medesime radici qui non si tratta di le radici non sono qualche cosa che offende gli altri non sono qualche cosa che viene gettato in faccia agli altri per dire io sono cristiano e tu non lo sei le radici sono qualche cosa che dice io sono nato in questa tradizione in questa tradizione mi riconosco e parlo con te da uguale a uguale però questa è la mia tradizione in questo continente ecco io penso che sia effettivamente importante ricordare che nel dibattito sui valori del nostro continente ci si ricordi effettivamente chi siamo e da dove veniamo cinque minuti ancora poi vi lascio uno storico inglese che a me piace Arnold Toynbee disse le civiltà non muoiono per assassino ma per suicidio muoiono per suicidio oggi si parla tanto di suicidio demografico in Europa eccetera il nostro è un continente che non fa più figli quindi non facendo più figli è un continente che ha paura del proprio futuro però Toynbee era uno che aveva un'idea diversa da Spengler quello del tramonto dell'Occidente che aveva un po' una visione biologica la nascita la vita la morte delle civiltà Toynbee diceva no no è vero però si può cambiare destino non è scritto ma ci può essere una carica la rigenerazione resta possibile ecco questa è una chiave che sulla quale dobbiamo in sedia di conclusioni fra un attimo tornerò ecco io penso che un altro dei temi valoriali importanti per riconoscerci noi europei sia quello del rapporto con l'altro mi ci soffermo solo un attimino perché è chiaro che l'importanza di tutto ciò è presente a tutti noi in una fase come questa quando ci sono queste andate di immigrazione che ci raggiungono ci giungono in Europa ecco noi abbiamo poche lezioni da dare come europei sotto questo profilo ricordavamo prima i pogrom ricordavamo i massacri ricordavamo Auschwitz eccetera voglio dire noi in Europa le etichette le stelle gialle in petto alle nostre minoranze le abbiamo messe ce lo ricordiamo come si faceva insomma quindi la paura dell'altro era normalmente associata a queste minoranze ho ricordato poc'anzi che uno dei grandi salti dei conquisti di civiltà di questa nostra Europa è stato emanciparsi proprio da quella visione da quella visione ecco vediamo oggi questi spettacoli veramente poco edificanti di alcune cancellerie europee che ti dicono no no ai migranti andate avanti proseguite se ne occuperanno se ne occuperanno altri ciascuno che cerca di scaricare i migranti sugli altri fenomeni che dureranno una due generazioni non c'è bisogno di essere come dire di lavorare nell'ufficio delle statistiche delle Nazioni Unite per sapere che oggi l'Africa ha un miliardo e 300 milioni di abitanti e alla fine di questo secolo avrà 4 miliardi di abitanti 4 miliardi vuol dire una crescita del 300% rispetto a quella di oggi quindi voglio dire il mondo che sarà quello dei nostri nipoti è un mondo che si comincia a preparare oggi ecco perché occorre occorrono delle classi dirigenti occorre che ciascuno di noi membri di questa società planetaria che si va formando sia consapevole del ruolo che ha e del fatto che ciascuno di noi abbia in mano una piccola una piccola leva ma quella leva azionandola in un modo piuttosto che in un altro possa poi indirizzare le decisioni in un senso piuttosto che nell'altro molti dicono Bauman il filosofo della società liquida lo ricorda molto bene in realtà la paura che hanno gli europei è la paura non è neanche la paura dell'altro è la paura di se stessi del proprio futuro l'altro ci mette a confronto con con la paura di perdere questi nostri privilegi di perdere questa nostra ricchezza fresca che abbiamo da poco acquisita ha ragione credo Ulrich Beck Ulrich Beck il filosofo tedesco quando dice ma noi siamo diventati ormai una società cosmopolita senza sapere di esserlo viviamo con fedi con cibi con modi di essere stili di vita che sono completamente diversi dai nostri gli uni accanto agli altri siamo cosmopoliti senza sapere di esserlo il perché l'Europa perché il mondo ha bisogno di Europa e perché l'Europa lo voglio dire proprio in sede di conclusioni dovrebbe essere consapevole del proprio ruolo dovrebbe essere consapevole innanzitutto del fatto che non non ci può essere futuro per le singole nazioni che compongono il nostro continente prese da sole gli europei nel 1900 componevano il 16% della popolazione mondiale oggi siamo il 6% e al 2050 quindi fra una generazione saremo il 4% mettiamo che siamo 100 adesso non so in questa sala vuol dire che una, due, tre e quattro persone ecco fra 30 anni in questa sala ci sarebbero soltanto le prime quattro persone che ho appena indicato europee può andar bene bisogna esserne consapevoli nel 2030 quindi fra 15 anni soltanto la Germania sarà rimasta nel gruppo delle 10 maggiori economie del mondo sarà entrata la Corea già c'è l'India questa è la realtà l'88% della popolazione mondiale non è occidentale il 55% del prodotto interno lordo globale non è più prodotto e scusatemi il gioco di parole non è più prodotto in occidente io sono stato ambasciatore in India quindi posso raccontare dell'enorme spinta che viene dal sud del mondo ecco quando Edgar Morin diceva che l'Europa era l'occidente un tempo oggi noi di quell'occidente siamo una provincia e l'occidente è una provincia a sua volta di un mondo molto più grande molto più composito ecco perché le politiche europee dovrebbero essere sempre più politiche divisioni condivise divisioni comuni non si può immaginare di difendere a Parigi a Berlino a Roma a Madrid altrove non ci può essere una politica italiana una politica tedesca su questo problema o su quel problema che sia l'ambiente il buco dell'ozono che sia che siano gli approvvigionamenti energetici la politica migratoria eccetera devono essere politiche condivise i segnali non sono incoraggianti lo abbiamo detto ci sono conati xenofobici che ci circondano ci sono pulsioni nazionaliste c'è molto smarrimento c'è soprattutto smarrimento da parte dell'opinione pubblica io non penso che ci sia reale volontà di tornare indietro di pensare che la Scozia possa vivere da sola piuttosto che la Catalogna o la Sicilia c'è smarrimento non c'è un senso di da parte anche delle leadership e degli intellettuali che sono assenti da questo grande dibattito finiti i metropons francesi d'altre epoche quali sono quegli intellettuali che oggi prendono in mano le opinioni pubbliche europee dicono andiamo in quella direzione facciamo delle cose io ricordo che nel 1947 48 49 Ignazio Silone Quasimodo Camus Bertrand Russell partecipavano animavano questi grandi dibattiti sul futuro dell'Europa oggi lì purtroppo invece c'è c'è molto c'è molto silenzio ecco il ruolo fondamentale è il ruolo dei giovani vorrei spendere un'ultimissima parola su questo tema il ruolo dei giovani è fondamentale lo è sempre e lo è a ogni passaggio di generazione ricordiamo Benedetto XVI quando parlava di leale solidarietà intergenerazionale leale solidarietà intergenerazionale permettere ad ogni generazione che si affaccia sulla soglia della vita di poter svolgere il proprio ruolo quindi l'idea che ci sia un passaggio del bastone del testimone come si chiama nella corsa a staffetta tra una generazione e l'altra che si faccia in modo fluido che dia la possibilità agli anziani di essere rispettati e a giovani di avere il proprio posto nel mondo se c'è un elemento positivo di Brexit che effettivamente si deve valorizzare è il fatto che i giovani britannici abbiano massicciamente votato contro l'uscita dall'Unione europea del loro paese questo per dire che i giovani si sentono europei più di quanto magari non lo siano i loro genitori perché i loro genitori danno magari l'Europa per scontato perché l'hanno vissuta ecco e i giovani magari la danno ancora più per scontata ma non è l'Europa non è irreversibile non è irreversibile abbiamo visto Schengen chi avrebbe potuto immaginare due anni fa che oggi ci sarebbero stati reintrodotti i controlli alle frontiere chi avrebbe potuto immaginare che ci sarebbero stati scontri in Europa per uno zero virgola di questo piuttosto che di quello che si dopo due anni di dibattiti acerrimi si sarebbe riusciti a riallocare poco meno di 1500 di 1500 migranti di quelli che sono venuti in Italia ci sono voluti due anni per allocarne in Europa 1500 quando ne arrivano quella stessa cifra arriva ogni giorno sulle nostre coste ecco questo i giovani devono fare attenzione a tutto ciò che fare per rilanciare l'Europa adesso questo è argomento di un'altra conversazione che faremo se vorrà padre Barlone faremo un'altra volta questo deficit di fiducia va contrastato si può morire di veleno si può morire di veleno e l'Europa e le generazioni oggi viventi in Europa vengono pian piano avvelenate da questo sentimento di euroscetticismo riscrivere i trattati si può lunghissimo si può democratizzare le istituzioni per immunizzare questi demoni lo si può fare lo si deve fare naturalmente e a cominciare come dicevo prima dal fatto che c'è un deficit di democrazia in Europa i trattati e le cancellerie non hanno in fondo mai veramente tenuto presente che ci sono 500 milioni di europei che stanno fuori da quelle cancellerie e dal Berliamont a Bruxelles quindi è chiaro che tutto che tutto ciò dovrà essere fatto questa crisi di civiltà che dicevo dovrà essere affrontata quella del riscoprire quelli che sono i valori fondanti che ci tengono insieme penso io che il cambiamento non ci verrà dalle classi dirigenti classi dirigenti cui più o meno poi facciamo parte tutti noi nel senso che il cambiamento come avviene in natura avverrà dal basso Toynbee quello storico cui facevo riferimento poc'anzi diceva che sono le minoranze creative che poi cambiano il corso della storia è successo spesso la rivoluzione francese la conquista del palazzo d'inverno da parte dei sovieti di San Pietroburgo non è più oggi quell'area lì non è più oggi quell'area lì ciascuno di noi ha la possibilità di fare la differenza l'ha detto anche Papa Francesco quando andiamo al supermercato compriamo solo quello che dobbiamo comprare nel frigorifero lasciamo solo quello che serve quando usciamo da una stanza spegniamo la luce chiudiamo bene il rubinetto per essere sicuri che l'acqua non vada sprecata piccole cose ma se si sta creando come credo che si stia creando una società planetaria composta da miliardi di Daniele Mancini ecco effettivamente il ruolo dei singoli Daniele Mancini moltiplicati all'ennesima potenza siano importanti quindi penso che sia un po' questo Heidegger diceva che nuovi inizi nella storia sono possibili lo è stato nel 1789 lo è stato nel 1945 nel 1989 e io penso che effettivamente abbia ragione sta un po' a ciascuno di noi fare in modo uscendo da qui dire beh sono europeo mi piace essere europeo sì allora se mi piace essere europeo se credo che vi sia una componente valoriale in tutto ciò ecco mi batto perché effettivamente questa Europa come dicevo all'inizio di questa chiacchierata non debba essere mandata in pensione ma venga considerata ancora valida grazie per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti